E' vero! Alessia oggi ha un sorriso ancora più grande, penso che esordire in nazionale a 16 anni sia un'emozione forte e anche una soddisfazione. Sì, un'emozione fortissima e descrivibile, sono contentissima per come è andata la partita e finire questa tappa come seconda è un buon risultato. Alessia Orro è di Oristano, è una sarda, è la seconda sarda nella storia di quasi ormai più di 70 anni della pallavolo italiana che gioca nella nazionale a. Sì, purtroppo in Sardegna non sono uscite così tante ragazze, ma forse in alto il nome della Sardegna, dai, sono contenta. Che vuoi dire? Mi manda un saluto a qualcuno. Ai miei genitori e alla mia famiglia. Ciao!